Questa è una canzone che Giulio si faceva alla fine dei concerti, durava circa tre quarti d'ora, noi la riduciamo, è una canzone di pop, ma lei si chiama No Woman Non Coral. No Woman Non Coral No Woman Non Coral No Woman Non Coral No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. da Sant'Avola Giuliettello, una promessa del suo paese, l'Oremmo con gli scuola. Alcorso, l'assista più famoso del suo conglomigno, benvenuto sull'Oremmo! Francesco Barrile. Alcorso, l'Oremmo con gli scuola. Marcello Artino e Pino Pervano. Al sacsofono, con la sua camicia, azurdo Speranza, Salvo Pirabello. Grazie, cibo, l'Oremmo con gli scuola. Direttamente dal colpare, l'Oremmo con il tuo Papa, Giovanni Scudono del Piano. Il ruolo, 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 il ruolo. Il ruolo, il ruolo, il ruolo, il ruolo, il ruolo. di un euro! Two angels come to me! Tomano Frischetto da Acireale a Santa Deca e a Papà Beccaluzzo le mette di Alpino Space! Signori signori, alla chitarra e alla voce anche il maestro di cerimonia questa sera per voi direttamente da Catania numero di telefono 3, 4, 2, 18, 12, 530 L'Alla Parietti del blues italiano il principe del blues italiano il rambo del blues italiano attenzione il vero il sole unico viagra del blues italiano Signori signori, Max Garumba! il principe ora proviamo a prendere il tempo con le mani facciamo frevar il bato signori signori con Catania ma se usciremo a prendere solo 3, 4, 7, 18, 12, 5, 130 L'Alla Parietti del blues italiano il principe del blues italiano il rambo del blues italiano il messaggio il nuovo istorio a unico viagra del blues italiano che si usciano in case non si usciano più anова Umba! Umba! Non ho fatto questo per farvi vedere quanto io sia bravo questo si sa già L'ho fatto perché Julius era un musicista, era una persona che da quando era adolescente si è dedicato alla musica, ha dedicato anni alla musica, ha sofferto per la musica perché non va sempre bene ma anche male. Qui ci sono sul palco delle persone che suonano, cantano e lo fanno in maniera seria e professionale, sono dei professionisti, rispettiamo i musicisti quando vedete uno spettacolo e sentite uno spettacolo che vi piace, andate dal gestore dello calcio, fate gli complimenti, cercate di individuare i musicisti, quelli che suonano non quelli che vi prendono per il culo con i grandi fratelli, le marie e cose varie. E' importante che sarete dei figli e vi farete come sul palco stasera, ma portatevi a imparare a suonare uno strumento musicale perché salverete loro la vita, ricordatevi. Volevo anche dirvi che diamo tutti le lezioni, grazie a tutti del Blue Blue! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!